La nuova fidanzata e Beatrice Alessio Bernabei, la nuova fidanzata e Beatrice, lo scoop di Verissimo Nuovo amore per Alessio Bernabei? . L'ex cantante dei Der Jack, Alessio Bernabei, potrebbe avere il cuore impegnato. Durante Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, allormai solista è stata mostrata una foto in cui lui baciava una ragazza in discoteca. . Non sappiamo niente di più di questa ragazza se non il nome. . Si chiama Beatrice e potrebbe essere la ragazza che sta facendo battere il cuore al bel cantante. . In realtà il ragazzo dal lungo ciuffo biondo non si espone mai più di tanto riguardo le proprie relazioni, fa rimanere sempre i suoi fan con il punto interrogativo in testa. . A tal proposito, infatti, lo scorso settembre Bernabei aveva postato una foto su Instagram con una ragazza ma, anche lì, nessuna didascalia che accompagnava la foto e quindi nessun aiuto ai fan. . Ovviamente questa foto fece un po' il giro del web e all'ex der Jack viene attribuita la relazione con Giorgia. . Questa presunta relazione fu poi prontamente smentita dall'ex partecipante al festival di Sanremo. . Da settembre ad ora sono passati un po' di mesi, il cantante avrà cuore e mente libera per dedicarsi ad un nuovo amore oppure cè spazio solo per la musica e per i suoi fan?. . Sarà arrivata la ragazza sincera tanto desiderata. . . Quando i fan gli fecero i complimenti per aver trovato la ragazza giusta, in merito alla presunta relazione con Giorgia, Bernabei rispose su Twitter, «Magari è al mio fianco ancora o solo voi e voglio avere solo voi». . A settembre, dunque, si dichiarava single ma desideroso di avere una ragazza accanto. . . Sarà arrivata la famosa Beatrice di Dante a farlo innamorare? Qualche tempo fa il ragazzo aveva anche espresso quasi un desiderio, delineando la sua ragazza ideale. . E aveva infatti affermato, «Deve essere sincera e deve saper vivere come faccio io». Sarà arrivata la ragazza sincera e che vive come il cantante?. . Un periodo sentimentale difficile. . La scorsa estate, Alessio Bernabei ha passato un periodo amoroso un po delicato. Probabilmente il cantante è talmente tanto desideroso di trovare una ragazza che non riesce a trovarla. . In effetti è sempre così, più si è alla ricerca di qualcosa più non la si trova. . Forse è anche per scaramanzia, e glielo concediamo, se ha deciso di tenere nascosta la presunta nuova relazione. . Non ci resta che aspettare per vedere se tra Alessio e Beatrice ci sarà un seguito oppure il ragazzo dovrò continuare la sua ricerca. . 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 Ciao